Crea fatture con Banana Contabilità Plus. È semplice e veloce. Ti permette di gestire i dati dei clienti e delle fatture in un unico file. Tutti i calcoli sono eseguiti in automatico e senza errori. Puoi creare fatture nelle lingue e nelle monete che vuoi. Personalizza le stampe e aggiungi il tuo logo. Crea la tua contabilità. Puoi adattare la tua contabilità esistente. Oppure creare una nuova contabilità. Parti ad esempio da un modello predefinito per la fatturazione. Inserisci i tuoi dati. Nei dati base del file, seleziona la moneta di base e inserisci l'indirizzo della tua società. Nella tabella Conti, imposta il partitario dei clienti. Ogni cliente ha un proprio numero di conto. Per ognuno definisci l'indirizzo completo e la lingua nella quale creare le fatture. Crea le fatture. Inserisci il contenuto delle fatture nella tabella Registrazioni. Crea ad esempio una semplice fattura per la vendita di un prodotto. Indica la data della registrazione. Il numero della fattura. La descrizione che apparirà sulla fattura. Nel conto Dare inserisci il conto del cliente. Nel conto Avere inserisci la contropartita, come ad esempio il conto vendite. Indica l'importo. Nei casi di assoggettamento all'IVA, inserisci anche il codice IVA desiderato. Puoi anche inserire registrazioni su più righe per avere più voci nella fattura. Oppure utilizzare anche le colonne Quantità, Unità e Prezzo Unità. Stampa le fatture. Visualizza l'anteprima. Potrai stamparla o esportarla in PDF per inviarla comodamente via e-mail. Personalizza le stampe. Personalizza la stampa delle fatture secondo i tuoi desideri. Inserisci un logo, cambia i colori, scegli la posizione dell'indirizzo, adatta i testi a inizio e fine fattura, e tanto altro. Inizia subito con la versione gratuita. www.banana.ch